Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, tanto per cambiare, ben ritrovati qua nel solito, usuale, disordine della mia libreria, con un argomento che parla di aerei brutti, ma veramente, veramente, veramente brutti, per non dire urendi. Allora, mettiamola così, di solito quando si parla di aerei brutti, si parla o di certi progetti francesi, oppure di certi progetti inglesi, e gli inglesi furono quelli che concepirono questo, lo riconoscete? Guardatelo bene, il ferry barracuda, molto probabilmente il più brutto. aereo della storia della seconda guerra mondiale, eccolo qua nel tre viste. Un monoplano, un aerossidurante, monoplano, monomotore, con tre uomini di equipaggio, aerossidurante e bombardiera impicchiata. Un aereo che, diciamo, in fatto di bruttezza e scarsa, diciamo, grazia estetica, eccolo qui, eccolo qui, il barracuda, diciamo che non teme rivali in quanto a arroititudine, perché è veramente, veramente, veramente brutto. È un aereo che oggettivamente non si guarda, da quanto è orrendo. Dice, va bene, è un aereo, non conta tanto l'estetica, basta che un aereo funzioni. Quindi, insomma, le prestazioni del barracuda non erano eccessivamente, insomma, non erano chissà quanto esaltanti, non erano propriamente, insomma, non era propriamente un puro sangue il ferry barracuda. Era un aereo tutto sommato onesto come caratteristiche di volo, non eccessivamente veloce, raggiungeva i 322 km orari a 2800 metri circa. era armato con due mitragliatrici e 900 kg di carico bellico, insomma, sicuramente più moderno rispetto ai biplani Swordfish e Albacore che equipaggiavano la Flitter Herm, ma oggettivamente è un aereo decisamente inferiore come caratteristiche di volo e prestazioni agli equivalenti, se vogliamo, americani che, insomma, oggettivamente lo Helldiver, il Dauntless o l'Avenger come aerosiluranti o aerei d'attacco erano decisamente tutto un altro paio di maniche rispetto a questo, insomma, rispetto a questo, rispetto a questo, ecco, mettiamola così. Insomma, il ferry barracuda fu un aereo che aveva delle discrete caratteristiche di volo, fu un aereo che quando tutto funzionava bene non era, come dire, assolutamente malvagio, i resoconti ne parlano come di un aereo dal pilotaggio non sgradevole, ma, 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 c'era un problema, un problema non da poco, ovvero sia il complesso e complicatissimo sistema di ripiegamento delle ali. Perché che cosa succedeva? Allora, fate conto, questa è praticamente l'ala, l'ala, questa è praticamente l'ala del ferry barracuda. Allora, la semiala posteriore veniva ripiegata sopra quella, la parte longitudinale posteriore della semiala, veniva ribaltata su quell'anteriore. Veniva girata a questa maniera, veniva praticamente alzata e girata in basso in modo da risparmiare spazio. Una soluzione complicata ma ingegnosa e che garantiva, come si può ben vedere in questa foto qui, garantiva una certa, insomma, garantiva un grande risparmio di spazio, soprattutto per le piccole e non propriamente spaziose portaerei inglesi. Però, come dire, fu un sistema che diede sempre grossi problemi, non era propriamente affidabile. Molti aerei, diciamo, avevano, il ferry barracuda in molti esemplari, aveva la scarsa, la pochissimo simpatica abitudine di avere questo sistema di ripiegamento dell'ala. Ripeto, la parte posteriore andava ripiegata sopra, le ali andavano girate in alto e poi piegate così a questa maniera. Insomma, un sistema barocco e efficace ma molto complicato e molto fragile e non molto affidabile. Tant'è che molti barracuda andarono persi perché le ali si staccavano e non è una cosa decisamente simpatica. Fece una guerra tutto sommato poco gloriosa, il barracuda pattugliamenti, sicuramente missioni di attacco ma soprattutto, come dire, poco gloriosi e decisamente noiosi pattugliamenti. Non c'è molto da raccontare sul barracuda a parte, a parte, a parte la sua partecipazione, la cosa migliore che fece fu l'attacco alla corazzata Tirpitz che fu gravemente danneggiata da due squadron di barracuda e della Friterrane. Ma tutto sommato i barracuda, ripeto, eccone qua, brutti, 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 brutti. Non c'è che dire. Il barracuda fece la sua parte in guerra ma non fu sicuramente una parte esaltante, date le prestazioni tutto sommato mediocre di questa macchina. Ebbe il suo momento di gloria con la Tirpitz ma per il resto pian pianino la Flitterarm preferì sostituirlo proprio con i più prestanti monomotori americani che erano più piccoli, più maneggevoli, più facili da mantenere e da pilotare e soprattutto meglio armati. Quindi, cari signori, il barracuda, brutto anatroccolo di nome, brutto anatroccolo di fatto, diceva il proverbio, perché oggettivamente riesce veramente difficile trovare qualche cosa di più inguardabile del barracuda, forse la banana volante, forse, o forse certi progetti francesi. Comunque sia, Ferry Barracuda, un aereo tutto sommato mediocre, un aereo che non è che abbia fatto chissà che cosa, a parte dare una valanga di legnate alla Tirpitz. Tutto qua. Quindi, cari signori, io vi ringrazio per l'attenzione e come sempre arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ricordatevi una cosa, se mi trovate un aeroplano più brutto di questo, molto probabilmente troverete il suo successore, il Ferry Gannett. Quello è veramente inguardabile, al confronto il barracuda sembra bello. Tutto qua. Quindi, cari signori, di nuovo, grazie per l'attenzione e arrivederci al mio prossimo video. Buonasera.